a vedere il concetto di tutti o nei? quindi cosa diciamo al nostro pubblico? niente no beh diciamo qualcosa tipo vabbè ragazzi noi andiamo a cazzi vuoi non lo so no? cosa vuoi dire? niente Luca parcheggio pieno se non pensi? non lo so niente non lo so perché parcheggio pieno parcheggio pieno quindi vuol dire che ci sarà tanta gente è giusto? si devi vedere una band che hanno fatto un solo album è troppo lontano è troppo lontano è troppo lontano? giusto però è lì è lì è Luca e qui è lì è Luca e qui è lì è Luca è lì è Luca allora? allora? nooo nooo allora? se ne pensi? si nooo così nooo Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti. GDF! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti